Bye Ali! Siamo andando anche le ore di stanno, poi le ore di stanno, e poi le ore di stanno, e poi le ore di stanno, e poi le ore di stanno aspettando, e poi si faccia, e poi si faccia, e poi abbiamo, abbiamo praticamente due padanti, due padanti, e poi c'è la sua impagna, o questo, ma è un po' di stanno, non c'è capire, che viene, e poi c'è... Ciao! Io penso di andare, andiamo... No, deve fare anche come, guarda la spesa, e a schierare, no, 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 dov'è il libero tutto? No, dai, scriviamo che domani sono qua ancora, domani sono qui? No, perché ci sono della presenza, allora pure io domani sono qua. In parte, non c'è la letta, non c'è la letta, non c'è la letta, non c'è la letta, ma sono qui, che puoi anche se la letta per terra, per vedere meglio? Eh? Ha paura di toccare per terra, per abbassarsi e vedere bene? Dalloro pensano che dall'altra, quando c'è la loro... eh... Eh... Poi l'ho visto, ho cercato di farlo scelto in modo, però ho portato scelto in plastica, quindi è in confidenza. Grazie. Ciao, buon anno. Anche se è meglio il proniero del pronosso. È meglio il proniero del pronosso. Ancora il pronosso del pronosso del pronosso. Non è tanto. Io non capisco qual è una, qual è l'altra. Ano tutte due capelli di due. Ani c'è pianta. Anishina Anishina UnMM Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.